Un fenomeno inconsueto, forse sconosciuto per molti, è che alle prime luci del giorno di Pasquetta ha fatto visita la litoranea adriatica della Puglia ed in particolare tra le province di Bari e Barletta Andetrani. Si tratta di un'alga rossa denominata Noctiluca Shintillans, che dopo un procedimento di fioritura microalgale ha prodotto diverse chiazze di colore arancione, formando letteralmente una striscia lunga svariati chilometri da Trani a Torre a Mare, un fenomeno non nuovo nell'Adriatico e che prolifera con il caldo, tante le segnalazioni che hanno fatto il giro del web accompagnate dal timore che potesse trattarsi di sversamenti mare dannosi per l'ecosistema marino e per l'uomo, poi la scoperta di un fenomeno che probabilmente anche grazie alle correnti ha raggiunto le coste pugliesi in modo visibile e che sarebbe dannoso solo per l'ittio fauna. Sul tema è intervenuta la lega ambiente di Barletta, la prima ad indagare nella BAT su quelle strane chiazze apparse nel porto barlettano. Abbiamo contattato la capitaneria di Porto, che è intervenuta immediatamente, ha detto lega ambiente, e con l'ulteriore supporto di uno scaffo della finanza abbiamo constatato che l'intero bacino portuale era invaso da questa presenza. Preoccupati si trattasse di uno sversamento è stata contattata una biologa che ci ha rassicurati sulla natura di quella strana sostanza, trattandosi di un'alga luminescente la cui presenza è stata segnalata su gran parte della nostra costa. Anche a Trani la polizia locale è intervenuta per una segnalazione sul litorale dopo la comparsa in acqua di una chiazza arancione che faceva sospettare qualche pericoloso sversamento in mare. Anche in questo caso si è subito verificato che si trattava di un fenomeno causato dalla fioritura microalgale, un fenomeno provocato principalmente dalle temperature calde come accaduto nelle ultime ore in Puglia e che nelle prossime ore svanirà autonomamente.